Era un autunno lontano. I terribili pirati sciamarono a terra, alla ricerca di una fata. In lungo e in largo cercarono, la catturarono e la costrinsero a portarli davanti al più magico dei tesori. Lo specchio fatato, forgiato dalle fate antiche, poteva esaudire tre desideri. I pirati espressero i primi due desideri, ma prima che potessero avvalersi dell'ultimo desiderio. La nave si schiantò a nord dell'isola che non c'è. Così l'ultimo desiderio andrò perduto per sempre. Ciao ragazze, eccomi qua con una nuova mega collaborazione. Questa volta è con Vera Natural Beauty che ha invitato me e tante altre ragazze a riprodurre il look delle fatine della Disney. Come vedrete giù nell'info box vi ho lasciato il link al canale di tutte le ragazze e andate a visitare i loro video perché ognuno di loro ha riprodotto una fatina della Disney. A me è stato assegnato il ruolo di Liria, la fata raccanta storie, che potete trovare nel film Trilly e il tesoro perduto. Ovviamente lei ha degli occhi verdi e ha una carnagione ambrata. Io e me non avevo le lentine e sono bianca come una mozzarella, ma questa non è una novità insomma. E comunque ho riprodotto questo make-up sui toni del marrone. Come vedete è un make-up molto luminoso perché ho utilizzato dell'illuminante, Poi ho ricreato il ciuffo e... E alla fine del video vi ho lasciato anche l'outfit. Come potete vedere il make-up è molto semplice sui toni del marrone. Infatti, se volete, potete riprodurre il trucco anche per andare in ufficio, magari senza il rossetto marrone che forse è un pochino troppo, magari con un gloss o un rossetto rosa leggero. Poi ho indossato queste ballerine marroni, perché diciamo che è un look molto sui toni del marroncino. Se avete delle ballerine rosa o rosa o fucsia sono molto indicate, io non le avevo e allora ho pensato, visto che tutto il look era sul marroncino, ho detto metto anche le scarpe marroncine. Con questo bel fiore che fa molto fata. E niente ragazzi, è tutto, io vi lascio il tutorial. Applico il fondotinta ed utilizzo questo qui della Avene Cuvrance in tonalità 01. Come vedete questa qui è una tonalità molto chiara. E la stendo con questo pennello della Elf. E la stendo con questo pennello della Elf. Prendo la mia palettina dei correttori, che non so il nome perché non c'è scritto nulla sulla confezione, quindi non saprei dirvi. E prendo questo colore chiaro, questo beige chiaro, per andare a correggere le occhiaie. Adesso applico il cover stick dell'Ala Vera, questa è in tonalità 01, avorio, che poi avorio non è tantissimo chiaro, come potete vedere. Ormai le marche quando dicono avorio non si sa mai se è chiaro chiaro oppure più scuro. E lo applico sulle imperfezioni. Lo potete applicare sia direttamente con lo stick, oppure prelevarlo col dito, scaldarlo con i polpastrelli e poi picchiettarlo. Devo dire che è molto compatto, infatti di solito lo prelevo con i polpastrelli e poi lo picchietto. Adesso un po' per praticità, perché ho una sola mano con lo specchietto e... Adesso applico questa cipria della Benecos in tonalità porcellana, che è questa cipria matte con questo pennellone della Zoela. Adesso applico un primer occhi ed utilizzo questo qui della Too Faced su tutta la palpebra ed anche sotto. Dalla palette della Mua Undressed prendo questo marroncino che si chiama Hazel con questo pennello da sfumatura ampio e lo applico nella piega. Prendo la stessa palettina, prendo questo colore Faun che ha un marroncino grigio. Ora, in fotocamera sembra beige. È molto simile al Long Lasting di Kiko numero 25. Mi sembra che ha un colore Tortora. È molto simile. Infatti, come prima, ho potuto utilizzare anche questo qui perché ho fatto la prova l'altro giorno e viene molto carino lo stesso risultato. Con questo pennellino della Essence e lo passo sulla palpebra mobile. Sto utilizzando dei colori matte perché l'Iria ha il viso molto luminoso però sugli occhi ha un trucco matte. Adesso prendo questo marrone più scuro che si chiama Anna sempre con lo stesso pennellino e lo picchietto un pochino qui alla fine dell'occhio così per dare un effetto allungato. Adesso prendo un'altra palette della Mua questa è la Going for Gold ed utilizzo questo ombretto dorato chiaro shimmer con questo pennello a lingua di gatto della Zoeva e lo applico sotto l'arcata sopraccigliare come illuminante. Adesso vado ad applicare un pochino di illuminante qui sopra lo zigomo. Adesso utilizzo questa matita per sopracciglia della Maybelline Master Shape in tonalità soft brown Adesso applico l'eyeliner in gel nero questo è della Essence 01 con il pennellino sempre dell'Essence per applicare l'eyeliner Grazie a tutti. Adesso maschera nero e utilizzo questo qui della Essence Multi Action Adesso applico questo blush della Mua sembra quasi un rosa antico con dei brillantini dorati e molto molto luminoso per questo utilizzo questo qui ed è il numero 6 della Mua con questo pennello angolato lo riprendo dalla Going for Gold a questo ombretto dorato lo riprendo perché l'ho utilizzato prima sopra gli zigomi e lo applico un po' qui un po' qui qui lungo il naso qui sul mento per dare un effetto bello luminoso proprio come a Liria nel film Trilli e il tesoro perduto adesso utilizzo la mia matita labbra mille kissis tiramisù che è una matita color carne adesso applico questo gloss della Elf che è un marroncino con dei glitterini dorati e si chiama Barry Brown ora non mi ricordo il nome della confezione ve lo segno nell'info box come tutti i prodotti e lo applico con questo pennellino che se avete visto il mio video dei prodotti finiti era quella matita fucsia della della Elf che era finita e io ho lavato il pennellino e lo utilizzo l'ho lavato con del sapone di Marsiglia con una saponetta perché è molto buona per rimuovere dai pennelli che hanno le setole sintetiche quelle lisce per applicare non so il fondotinta per applicare dei prodotti in crema si puliscono benissimo con le saponette più che col sapone liquido poi vi farò sicuramente un video sulla pulizia dei pennelli perché me l'avete richiesto ora datemi un attimo che mi organizzo e cercherò di girarlo il make up è finito adesso ci occupiamo dei capelli prendo la mia spazzola in legno con questo gattino bellissima che ho comprato ad una fiera a 5 euro un attimo Grazie a tutti. Ora vi faccio una bella cosa alta. Utilizzo questi elastici piccolini, prendo quelli neri. Ho utilizzato degli elastici verdi come a liria. Io non li avevo e allora mi sono arrangiata con questi qui neri. Adesso vado ad allargare le ciocche. Prendo la matita per le sopracciglia. E voilà! Ah, ciuffo di liria è fatto! Ed ecco ragazze, l'acconciatura di liria è terminata. Con questa coda e questo ciuffo. Sulle unghie ho applicato questo smalto della Sally Hansen, Amethyst Diamond. Che è questo bellissimo rosa scuro con dei riflessi dorati. Perché lei nel film indossa uno smalto che va dal rosa al fucsia. Però secondo me con il look si abbinava questo smalto. Passiamo al vestito. Adesso vi faccio vedere cosa ho indosso. E ho messo un vestitino fasciato in vita che scende morbido giù. Con questo scialle che ho applicato di sopra, bianco. Al quale ho aggiunto una spilla. Che l'ho ricoperta con una carta di quelle regalo dorate. Perché non avevo una spilla dorata. E poi giù ci volevano delle scarpettine rosa. Le quali non avevo. E ho pensato di abbinarle con queste qui. Queste ballerine marroni con questo fiore. Niente ragazze. Spero che il look vi sia piaciuto. Che questo video vi abbia tenuto compagnia. Io vi mando un bacio. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!